Stai montando un video su DaVinci e ti accorgi che l'audio del tuo parlato ha dei problemi, c'è del rumore di fondo, c'è del vento, c'è della musica. Non ti preoccupare, sei nel video giusto. Questo è SOS Firelight, il format che vuole risolvere un singolo problema che puoi avere nell'audio editor di DaVinci. Io sono Nicolò, audio specialist in un'idea e benvenuta o benvenuto in SOS Firelight. Come sempre ricordati di indossare delle cuffie e possiamo partire. Qui ho preparato per te tre diverse clip con tre problemi diversi. La prima è una clip registrata con l'iPhone dove c'è il rumore del climatizzatore e del computer di Beatrice. Ok abbiamo il computer con le ventole praticamente al massimo, il climatizzatore. Qui invece abbiamo un'altra clip registrata con un action cam e della musica sopra il mio parlato. Ok questa è la prova con la musica sopra, praticamente c'è della musica e noi stiamo accendendo. Questo come puoi sentire potrebbe tranquillamente essere un audio a buttare, ma vediamo se possiamo risolverlo. E finiamo, terzo esempio, questo è uno scenario che è il peggiore di tutti, ovvero audio della camera con un ventilatore puntato addosso. Tra l'altro questo è pure fuori fuoco, quindi proprio lo scenario peggiore di tutti come ti dicevo prima. Sono io e sì, questa è una prova con il microfono interno della Black e con un ventilatore puntato. Bene, primo scenario, andiamo su Firelight e ti mostro dove puoi trovare il plugin che andremo a utilizzare. Intanto allarghiamo la pagina del mixer, che è questa, e come vedi abbiamo diversi parametri. Quello che a noi interessa adesso è Track FX. Se non vedi l'opzione Track FX sul tuo DaVinci non ti preoccupare, clicca su questi tre puntini e spunta Track FX. Come vedi qui adesso comparirà tra Input e Order questo nuovo parametro, ovvero Track FX, che è composto da Voice Isolation e Dialog Leveler. Quindi andiamo a cliccare su Voice Isolation. Sembra non sia successo nulla, ma abbiamo inserito un plugin sulla prima traccia audio del nostro progetto. Cliccando qui sul tasto Controls, che sono queste lineette con dei puntini, andiamo a vedere cos'è questo plugin. Questo strumento funziona con l'intelligenza artificiale, un po' come Adobe Podcast. Se ti interessa l'argomento possiamo farci un video dedicato e poi lo troverai qui in alto. Ed è un plugin molto semplice perché come vedi ha solo un tasto, ovvero quanto deve influire l'effetto sulla traccia, dove 100 è il massimo e 0 è il minimo. Adesso esageriamo, ti farò sentire prima la clip con l'effetto e poi senza l'effetto. Ok, abbiamo il computer con le ventole praticamente al massimo, il climatizzatore e vediamo cosa fa il Voice Isolation. Bene, come puoi sentire la differenza è veramente schiacciante, ha completamente rimosso il rumore di fondo, proprio perché l'algoritmo dell'intelligenza artificiale va a togliere tutti i rumori che secondo lui non sono voce. Invece nel secondo caso andiamo a inserirlo non nella traccia audio ma nelle singole clip, quindi io qui ho fatto dei tagli che sono questi due e andando su Inspector nella sezione Audio posso andare a attivare il Voice Isolation. Anche qua come vedi l'unico parametro modificabile è l'Amount che sarebbe la quantità appunto di effetto, che va sempre da 100 a 0 e lo andiamo a inserire in questi due punti. E adesso andiamo ad ascoltare cosa sta effettivamente facendo il plugin. Ok, questa è la prova con la musica sopra, praticamente c'è della musica e noi stiamo accendendo e spegnendo il Voice Isolation per sentire com'è il risultato con e senza in un audio in cui c'ho della musica. Assurdo. Bene, come hai potuto sentire l'effetto è veramente strabiliante, è anche vero che in questo caso l'ho voluto volontariamente forzare così tanto. Si può sentire ancora qualche artefatto della musica quando io parlo, quindi è da usare ma con consapevolezza. Ultimo esempio caso limite, sono andato a inserirlo su questo ultimo pezzo di clip, infatti come vedi qua c'è scritto FX proprio perché è andato a inserire un effetto solo sulla singola clip e il risultato è il seguente. Sono io e sì, questa è una prova con il microfono interno della Black e con un ventilatore puntato e questo è l'audio con il Voice Isolation. Ovviamente il trattamento della voce non sarebbe finito qua, infatti dovremmo andare a comprimere e equalizzare questa voce. Se ti interessa l'argomento c'è un video sull'equalizzatore fatto da Antonio, te lo lascio qua nelle schede. Poi se vuoi approfondire il mondo legato all'audio lasciami un commento su quale argomento ti piacerebbe che io approfondissi in modo tale che io ci possa fare un video dedicato. Ultimo consiglio, se la pagina di Fairlight ti spaventa non ti preoccupare, questo effetto lo puoi trovare sia nella edit page qui, dove c'è scritto Voice Isolation andando a selezionare la singola clip nell'inspector oppure nella cut page selezionando sempre la singola clip nell'inspector e lo trovi qui sotto oppure andando a selezionare la traccia per andarlo a inserire su tutta la traccia. Bene, questo era il modo più rapido e veloce per pulire un parlato su Da Vinci. Se questo video ti è stato utile ti invito a lasciarmi un bel mi piace e di iscriverti al canale perché ogni settimana pubblichiamo dei video incredibili. Io sono Nicolò e ci vediamo nel prossimo video.